Oggi all'Innovation Lab si parlerà di rinaturalizzazione del territorio e biodiversità. Cosa ci può anticipare? Beh, io parlerò fondamentalmente di un progetto che abbiamo condotto con la Regione Veneto e per conto della Regione Veneto che si chiama Ridiamo il sorriso alla pianura padana. In buona sostanza si è trattato dell'impianto di alberi, di giovani alberi, di spezie autoctone, quelle che componevano la foresta di pianura prima che venisse soppiantata dalle attività umane. E con questo progetto abbiamo dato un contributo a un aumento di piante netto nella pianura veneta di 140.000 unità, di 140.000 piante appartenenti a direi una venti-trentina di spezie diverse. Quindi è un progetto un po' particolare perché possiamo chiamarlo un progetto di ecologia partecipata nel senso che le piante vengono conferite ai cittadini e a ogni cittadino se ne prende cura. Quindi non è come in altri casi in cui è l'ente pubblico che costituisce un bosco, una foresta completa, grande, però poi deve manutentarla. Qui il singolo cittadino prende un singolo albero o dieci alberi, li pianta e li cura. È una cosa un po' diversa però ha un significato anche, non solo, ma anche educativo. Quali conseguenze ha portato la siccità che affligge il nostro territorio? Per adesso, io sono un forestale, anche se lavoro a Veneto Agricoltura, il grosso problema è relativo all'agricoltura che ha bisogno di molta acqua per irrigare. Quello che posso dire io è che come accade peraltro da un po' di tempo, dal punto di vista mio, di tecnico che si occupa di habitat naturali, è che c'è molta siccità nella parte iniziale della primavera e per tutto l'inverno. La piazza arriva dopo, arriva a maggio durante le fioriture, quindi con qualche difficoltà per le api, per gli impollinatori, nel momento in cui invece dovrebbe esserci buon tempo, mentre la siccità c'è stata prima. Ecco, questo accade. Grazie. Grazie a lei.